Manuele, sei arrivato in Toscana per il Gran Premio Industria e Artigianato, sempre una bella corsa, quali sono le tue sensazioni anche di squadra? Veniamo dalla Coppia Bartoli, quindi vedremo oggi il corso è cambiato, quindi vedremo il nuovo percorso com'è. Come hai iniziato questa stagione a tuo giudizio? Sei soddisfatto? Sì, ho iniziato con l'Australia, poi ho fatto Oman, Belgio, Strade Bianche e adesso qui, quindi dai, ci siamo. Prossimi impegni? Giro di Sicilia.